Musica Musica Molto gradito da tutti voi anche soggetto a tante domande. Bene ci sono anche delle domande che noi ci facciamo per esempio sulle tante associazioni di gruppi regionali nel mondo e in questo caso io oggi do e apro una finestra sul Friuli presentandovi l'attuale presidente del Fogoral Furlan di Roma Francesco Pittoni benvenuto nel nostro programma. Ovviamente abbiamo ospitato anche il precedente presidente Adriano Degano che è stato un punto di riferimento per la comunità del Fogolar dei Friuli nel mondo però è stato un po' difficile trovare un'alternativa valida ma eccola qui perché insomma se l'hanno eletto è un motivo ci sarà. Innanzitutto una lunga storia come socio a quella sua consigliere vicepresidente ora presidente. Ecco qual è l'eredità lasciata da Degano a cui il Fogolar non vuole non può rinunciare? Chiaramente Degano ha lasciato un'importante testimonianza illuminante che ci è di guida per il nostro operato. Ha saputo dialogare con gli umili e con i grandi della politica, della società, della Chiesa guardando sempre all'emigrazione come fatto estremamente importante che appartiene alla nostra identità identità che va vista oggi in chiave attuale, moderna e certamente coniugandola con quelle che sono le aspettative dei giovani. Le vostre iniziative a Roma sono tantissime però una cosa bella del Fogolar che riesce a collegarsi molto bene con le altre famiglie di Fogolar Furlan presenti in ogni angolo del mondo. Ecco in che modo? Cioè qual è la vostra ricetta vincente? Noi qua presentiamo le buone pratiche per cui altre associazioni di italo, siciliani nel mondo, calabresi nel mondo, sentite. Anzitutto gli strumenti. Se noi andiamo a evidenziare sulla mappa del mondo, le 160 città dove risiedono i vari Fogolar nel mondo, in 60 paesi diversi, abbiamo evidenziato graficamente i flussi di emigrazione dei Friulani nel mondo. Ma se solo colleghiamo queste città fra di loro con una linea vediamo una incredibile rete di comunicazione oggi via web. Quindi 160 nodi di una rete dove possiamo comunicare. Roma chiaramente ha dei punti privilegiati di richiamo per programmi, per visite e noi siamo sempre pronti all'accoglienza. Secondo punto di dialogo con gli altri è la riunione che ogni anno viene fatta in Friuli di tutti i Fogolar del mondo, o quasi tutti, e presenti 800-900 persone. Ci si trova al tavolo accanto i soci di Tokyo, di Mosca o di Buenos Aires. O del Congo? Congo, che ho frequentato per ragioni di lavoro e tuttora frequento. È una bella storia quella del Congo dove ho partecipato alla costituzione del Fogolar, della Repubblica del Congo. La capitale, voi sapete, è Brazzavilla. Parliamo del Congo ex colonia francese. Brazzavilla è l'unica capitale al mondo che ha mantenuto il nome del suo fondatore, un friulano, Savornian di Brazzà. Sì, questa è una bellissima storia. Esploratore di grande allugimiranza, di grande umanità. Con i soldi della mamma romana dava libertà agli schiavi, li assumeva nella propria spedizione e quindi procedeva fino a stabilire i contatti, in quel caso con la Francia, perché lavorava sotto la marina francese. Forse dovrebbe essere quasi il Fogolar, non dico il più importante nel mondo, però caspita, dare il nome a una capitale fatto poi da un friulano è una cosa molto particolare. Oggi parliamo tantissimo di nuove mobilità e quindi giustamente lei faceva accenno al ricorso massiccio alla rete, però anche quello che si pubblica e che si propone in rete ha un suo peso per attrarre o no i giovani. Ecco, i vostri giovani come li trattate? Come li trattiamo? Devo dire che bisogna incominciare da quelle che sono le loro aspettative, direi. L'aspettativa del giovane che va all'estero oggi è sempre più scolarizzato, sempre meno con la valigia di cartone, come viene spesso ricordato. Ecco, qual è la sua aspettativa? La sua preoccupazione non è tanto trovare il lavoro dove andrà nel paese in cui si recherà perché forse lo ha già guadagnato, ma è quella del domani, cioè di un possibile rientro. E quindi si inverte il flusso delle aspettative dei giovani. Che cosa succederà un domani qui nel nostro paese? Questa è una domanda che vi state ponendo, vi state dando un abbozzo di risposta? Ma certamente usiamo, tra virgolette, i nostri fogolari in giro per il mondo sempre come punto di riferimento della propria terra e quindi come supporto anche nella logistica e nelle relazioni del paese dove si trova. Che non è una cosa sciocca perché nel momento in cui uno deve in qualche maniera arrare il terreno, deve sapere dove è fertile e chi c'è prima di lui senz'altro glielo sa dire meglio. In questi casi tempo e distanze non contano. Ah beh, almeno una cosa buona la tecnologia l'ha fatta. Oggi scopro un'altra sigla. Lei è presidente anche dell'UNAR, che è l'Unione Associazioni Regionali. Allora, Unione Nazionale immagino. Sì. Ok. Che fate? Ma è un momento unitario di quelli che sono i capitali, le identità culturali, storiche, enogastronomiche e così via, delle varie regioni. Ci incontriamo lì per trovare quale punto di incontro e questo dà un messaggio molto chiaro, un messaggio di integrazione soprattutto, che costituisce il tessuto socio-economico anche della capitale. Ma c'entra anche la realtà dell'immigrazione in questa associazione? Certamente, c'entra perché tengo a ricordare che ultimo arrivato, ma certamente non da ultimo, è il FAIM, forum delle associazioni nel mondo. E questo è un forum dove troviamo la Fondazione Migrantes, dove abbiamo lucemi, troviamo altre autorevoli associazioni, la CGE stessa, che rappresentano il modo più moderno di associarsi nell'ambito dei processi di migrazione. Ci rivedremo senz'altro in futuro con Francesco Pittoni, presidente Fogolar Furlan di Roma. Vi ricordo il sito www.fogroma.it per essere sempre aggiornati sulle tantissime iniziative che questo Fogolar mette in atto. E allora, noi siamo pronti in questo caso a darvi l'arrivederci, perché ci sarà un'altra puntata con altri ospiti, ma... Ma ricordiamo i nostri contatti, community.italia.rai.it è la nostra mail, il nostro sito per rivedere le puntate, www.raitalia.it anche per vedere la programmazione tutta del canale. Insomma, se siete curiosi, non dovete fare altro che mettervi comodi, accendere Rai Italia, aspettarci che tanto prima o poi arrivi. Grazie a tutti.